Faccio in vantaggio queste partite, vorresti sempre portarle a casa. Diciamo che abbiamo pagato un pochettino la giovane età, si può dire, che comunque abbiamo giocato con due centrali del 2000 oggi, quindi penso che in tanti frangenti può essere mancato quello. C'erano bisogno di crescere. Daniele, se non sbaglio, oggi è la terza partita, quindi delle situazioni. Ho sentito prima la domanda che ha fatto Walter a Daniele, che ero qua a Genza della Stampa, che ci avevano messo un po' là. Ma in certe situazioni loro non l'hanno fatto più di tanto. Ci hanno messo qualche pallone alle spalle dove sono stati bravi i loro attaccanti, magari a lavorare di esperienza contro i nostri difensori. Quindi è un attimino di... È un momento che va un pochettino così. Potevamo portarlo a casa. Dispiace per il palo di Lorenzo, perché lì poteva cambiare i sorti del match. Però ci siamo. Speriamo che questa benedetta vittoria arrivi al prima possibile, in modo che siamo manforti a questo momento. Questi risultati utili, diciamo. Noi lavoriamo per cercare di arrivare a fine anno e aver fatto il massimo che possiamo fare. Credo che alla fine anno i punti che hai fatto sono quelli che ti sei meritato. Quindi se noi continuiamo a lavorare, a crescere, a migliorare su tutti gli aspetti, credo che possiamo di la nostra e piazzarci bene. Poi magari fare dei play-off dignitosi. Dico che io ho fatto veramente fatica di arrivare dal Covid. Quindi ho fatto veramente fatica. Non nascondo. Devo ringraziare il mister che mi ha dato comunque la possibilità di scendere in campo. Perché delle volte non ero neanche... Sentivo che non stavo bene. Mentalmente un pochettino mi ha frenato. Quindi penso che tanto che ci è mancato, diciamo, il calo fisico per quanto abbiamo spinto all'inizio ci poteva stare. Ci è mancato un po' il riciclo, diciamo, che tra infortuni e qualche altra situazione magari ci ha allevato quel poco ossigeno che potevamo avere in certe situazioni. Poi se andiamo ad analizzare le partite, obiettivamente vi dico che abbiamo più qualcosa da parlare di sfortuna. Vedi Vibonese, vedi qualche altro episodio con la Turris. Abbiamo preso un tir in porta. Siamo tornati con un punto da là e un punto con la Vibonese in casa. Con un pizzico di fortuna in più potevamo avere quei due barra quattro punticini in più. Penso che il presidente sia stato abbastanza chiaro sul discorso del rinnovi. Quindi non voglio andargli contro. Quindi è inutile che so dire a tutti quanto vorrei rimanere a terra, ma perché sono stato benissimo, mi sono trovato benissimo. Quindi non credo che sia questo. A me farebbe piacere rimanere di fronte, però oggettivamente ti dico che se dovesse arrivare un'offerta da una squadra importante e mi prolungano il contratto, purtroppo io, ragazzi, ho una famiglia e devo anche guardare il mio futuro. Mi dispiacerebbe se avvenisse prima di un ipotetico rinnovo qua, perché è stato veramente bene, sto veramente bene. Quindi sto con la speranza, penso come tanti altri di noi.